BELLA A TUTTI DA PORKMODS Ok Non voglio essere il primero dei primi Andiamo Sto visual è troppo lontano Leva sto visual Aspetta ecco c'è stanno I signorini che ci danno la mano Ottimo raga Sì Siamo riusciti a passare di lato Dopo dopo I saluti Saluto tutti in caso Qui è critica la situation Ma perché ci voglio Credi Giuro che non stavo leggendo E' stato un errore mio Un francolino non mi erare perché È vietato in penna Dimmi che atterri qua sopra Raga ma che c'ha sta bicicletta L'input lag C'è un input lag oggi assurdo Ce l'ha sempre avuto La BMX Vedete un doppio salto M'ha fatto Tutti? C'è nessuno Non c'è nessuno Dai il primo round Ah Dario e Sergio Ok Ok Così si comanda Dario Non ci provare Dai Raga Io il primo round C'ho la condanna La condanna Raga Ok Avevo pure schiacciata Però sai che dopo Non rimprovero Sto scherzando Sto scherzando Dario Ascoltate Ma Raga Io vi giuro che Non lo so Io vi giuro che Non ho idea Di questa Faccenda Come ho evitato Baccaro Raga Ma come ho evitato Baccaro Non lo so Nemmeno io Le baretto Le baretto Vuole schiacciare Invece Cattivo Con me Però non mi becchia Cittì Cittì Mamia Ehi 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 Carina Carino il primo round Raga Sono stato veramente bravo Grazie a questi mods Allora Io devo Devo capirla Però sta BMX Raga Perché io vi giuro Premo R1 No E non Mi salta Quando Decido io Questo succede Quando non si usa Per tanto tempo Qua Antikik Come ha fatto A sopravvive Da questo volo Raga Antikik Antikik Citta Raga Ok Secondo round Facciamo in modo Di dimenticare Quei due salti In BMX Finali Raga Da dimenticare Completamente Raga Non è mai accaduto Io mi ricordo solamente Che siamo saliti su E accidentalmente Poi mi hanno schiacciato Non è stata Causa mia Andiamo Senti io che forse Ci fermiamo qui Ah Raga Allora L'unico problema è che Oddio Non tanto Perché C'è sempre una sorta Di equilibrio Quando il creatore Mette Una cosa del genere Chi oriamo Sa sì Sai sì Che io mi devo Vendicare Sa sì Ce l'hai fatta Saluto 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 Ma qua Senti Corri 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 No Devono arrivare Le armi Non ce Devono arrivare Ti lascio in pace Black Tiger Ti lascio in pace Ok Ai 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 Nessuno arriva Alle armi Vero? Stanno giù Ah E' secaduto E' secaduto Cioè io credo Questo lo schiacciamo Lo storito Una piccola Schiacciata Che una tartaruga Sta macchina Se rimette mai bene Comunque tutti cascano Dalla piattaforma Meno male Non sono stato l'unico A cascare Ah Poi ricapito Va a vedere una cosa strana Con la BMX Una cosa Ah Qua hanno cittato Non si citta Niente Praticamente Cosa è successo Con la BMX Kill a me Salto E mi salta Laterale Riga Franco lì Non è andata bene Alebaretto Che è scaduto sotto Sì Ti sono tutti qua Riga No Su perché mi hai spinto E cazzo Dato non ce la fa Tutti c'hanno problemi A saltare là Meno male Che non sono l'unico Meno male Riga Riga Passamelo Passamelo Kill a me Kill a me Kill a me 50 ore più a me E vai Eeeh Là non c'è nessuna Le armi Uno sta saliti qua Sasi Cos'hai fatto poco fa Cos'hai fatto Sasi Ho schiacciato Dammi la kill a me Mamma mia Quante belle kill Riga Favoloso Veramente Favoloso Riga Questa ma la frego io Sta kill Siete Ah è squadra nostra Ma chi era Rondo vincitore Prossimo round Ok Terzo round Allora BMX Piccola BMX Tutti hanno sbagliato Sono leggermente Più tranquillo Sì però Primerò dei primeri Però Queste bombette esplodono Non lo so Se all'epoca No Le LTS Non esistono Stavo dicendo Cosa stavo dicendo Cosa stavo dicendo Non lo so Mamma mia Che ti vendichi Che io Io mi devo vendicare Non esiste La vendetta Per la vendetta Eh no 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 Niente gestaci Sasi Ehi 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 Vai te Bravo Intanto non lo colpisce Allora Ma Ecco avete visto Dai Ho voluto fare la finta Regà Comunque Avete visto Che Stavo dritto Saltato E la BMX Ha saltato Tipo verso destra Mi era capitato In una gara Che stavo giocando No In sessione Scusate Quale gara Eh Ho provato Con più di un joystick Magari il joystick C'ha problemi E invece no Proprio la BMX Insomma appena parte il prossimo round Vediamo Ah no finisce Sto pugilato Hai ninja Hai ninja Non si può fare più niente Pure la BMX Uh ha vinto Ha vinto Zitti Zitti Gem Grant E la miseria No Non vinceremo Non vinceremo Anche perché nella descrizione c'era scritto Saltar No final Quindi Serve per forza la BMX Ok Ho riavviato altri due round Di questa LTS Ma dopo ci giochiamo pure al prossimo con scaricato Perché voglio capire se è fattibile arrivare alle armi No non siamo Prenditi un'altra macchina Così siamo tanti Siamo partiti pure nella parte vincitrice Che qui vinciamo Dario e Sergio Tutto mio Tutto mio Dario e Sergio Sì Sì Dario Allora aspettate Voglio fare così così Tagliamo con stile E non perdiamo tempo Perché c'è qualcuno un po' avanti Un certo Baccaro Bravo Uble del te Duccio Io credi Ha frenato quel poco Riga Perché poi mi sono incantato qui Riga 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 Occhio 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 Emergenza Emergenza Non so perché salta in questa maniera Oggi la macchina E non si rigira Per niente L'unica salvezza Sono io Per questo round L'unica sono io Riga C'è un Emgret Là sopra C'è Emgret Là sopra Emgret Buttalo giù Riga Come ha fatto a saltare Come 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 Spiegatemelo Stanno ancora girando Come ha fatto Riga Dimmi che non ha preso niente Arrivano i soccorsi E loro come hanno fatto Bravo Emgret Bravissimo Emgret Grande Franco lì No non l'arate Perché lo posso arare solamente io No Wall Street dove sta No ragazzi Questo c'è lì alle armi Dove sta Dove sta No ragazzi Eravamo tutti concentrati su una persona Dimmi non dirmi che sta lì Non lo vedo Dov'è Ah abbiamo vinto Abbiamo vinto Round vincitore Prossimo round Ok Secondo round Allora Se vinciamo pure questo Abbiamo stravinto Ma se perdiamo questo Teoricamente abbiamo vinto lo stesso Perché Ce la possiamo fare Ce la possiamo fare come Allora Ma le mie partenze sono veramente ottime Non ci fa di caso Io Avevo calcolato che con quella velocità Andavo lì Dove ne è accaduto tutto ciò Peccato Veramente un peccato Antikic che sta facendo Cosa sta facendo Sì ma ha mandato un messaggio Sì ma ha mandato un messaggio Sono stecchito Antikic Non si vede Regà Nemmeno se faccio così No Perché a piedi Antikic Che serve forza ABMX Non lo so No non escono Non escono i messaggi Perché No che uscire Arrieta le armi I'm great La miseria Prima ci ha salvato il round Arrieta le armi Bella Bella Queste kill Anche io Anche io avrei voluto Avrei voluto Avrei voluto Ma niente da fare Che peccato Però abbiamo vinto Speriamo che nel prossimo LTS vada meglio Arrieta le armi Samuel Salta salta Samuel Vai vai Salta Eh serve per forza ABMX Ne manca solo uno E abbiamo vinto Chiusa Ah le macchine Degli altri non si possono prendere Abbiamo vinto Regà Vediamo Partita vincitore Avviamo subito Un altro LTS Ok regà Nuovo LTS Non ho visto Da chi è stato creato Però Speriamo che ci sia Indirigibile Allora Sempre BMX Contro Zentorno Regà Vola le baritto Da beh che dobbiamo vincere Carino questo stile Regà Carino Se uscì No no Eh regà Solo qui l'ho usato Perché stavo In scavo Quindi si può Solo qui Solo qui Possibile Dai Bella Anche la più Come si sale Come si sale Come si sale Bella Alessandro Aiuto Ma stanno tutti a cascare Ball Street Mi gusta Mi sa che è eccitabile Probabile Sì Ball Street Sì Vai giù Che non succede niente E tu in poltiglia Perfetto Voglio controllare Un attimo Se c'è un piccolo Minuscolo Cheat Ma No 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 Non è baritto Ali Scendiamo Vance Proviamo Che c'è la scossa Corri 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 Vieni Alebaretto Vieni Chi è sta strada Strada Che vuol dire Cosa significa Questa cosa Ale Senti Riuscite a passare Ale Sì Ale 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 è chiuso No No Ale No Proprio Infrento la regola Di cittare Il primo round Ale Però se entrano qua E facciamo fare Una bella fine Ale Garantito No 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 Non si spara il potere Ora che sta arrivando Ingretto Non sta arrivando più Puoi stare tranquillo Perché è chiusa Sta BMX No rega Ma saliva Cioè ci dobbiamo Solamente chinare Ale ale Se riesco a cadere Se riesco a cadere Arriva queste armi Ma devo cadere È arrivato qualcuno Ale 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 Basta poteri Per favore Ale vieni qua Che anticitta Ale 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 Sì Sì Mamgrat Mi dispiace Mi dispiace Mi dispiace Fatemi entrare qua dentro Per favore Non c'è Non c'è altro modo Vedete Ha messo la corsia Vieni qui Se hai coraggio Non posso andare là Ha messo la corsia In modo tale che Si può passare Solo qui Assurdo Strano Strano Questo creador Ma che Dove sta Antigheak Scusate Se questa BMX Fosse buona No Le ha chiuse Le ha chiuse Tutte Regà Regà Qualcuno Sa Tu Antigheak Sì Ma se Stai giù Antigheak Abbiamo vinto Buttiamoci Round Inciedore Prossimo round Ok Secondo round Allora Carichi Carichi Belli carichi BMX Adesso Vero Non si può citare Regà Comunque quella cittata Che ho fatto Veramente Strana Meritavano Presto Se lo sapevo Meno male che non si andava Troppo avanti Meno male Che è quel cappellino Voglio la maschera su No Sti cappellini Corri 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 Salta Sui Dai Almeno fatemi vivere Due secondi Con sta BMX Due Solo due secondi Pretendevo Regà Ok Terzo round Allora Comunque Non c'è arrivato nessuna Le armi Fino adesso Nessuno Regà E Quella caduta E inizio Runners Mi ha un po' deluso E adesso devo arrivare Tutti i suini Tutti 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 Nemmeno un'arma Oggi Salto Sapete che vi dico Sapete che vi dico Io me ne vado Dentro questa Piccola Casetta A rompere Le scatole A tutti No sui No sui Risali No No Non mi dobbiamo cascar Sui No mio Samuel No sui Troppi 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 Siamo troppi Però quelli possono risalire Regà Andate dai Gli altri Cortesemente Eri salito Quanta gente che c'è Stato Ti fai Non lo che ti fai Non salire Macchina convince Potevi dare Su Ti ho preso pure a te Ci voglio Credi Che sei sceso Dalla macchina Sì Non c'ho io Credi Sono caduto Quanta gente è cascata Qui raga Tantissima gente Non li fate arrivare Alle armi Cortesemente Sì Saltella 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 Che non ci sono problemi Sei vivo Sei vivo Che è sta Viate Prima qui Raga Io non so Sto andando Vieni qua Vieni qua Ronald Come stai Come stai No 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 Che lagga Che lagga Che lagga Io lo sapevo Che tirava Una laggata Raga Sì ma io non posso Perdere tempo Solo con lui Raga Non posso Non posso E vabbè Riparate là Io me ne vado Me ne vado Qui No no Che sono ste esplosioni No Chi è arrivata Le armi Che avete lasciato No 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 Via 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 Dai Vai Via 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 Fri Sei Siamo vivi Allora Quanti kill abbiamo Non lo so Non lo so Raga Questo non lo so Per niente Quello che stava qui Sta su Ho sentito un missile Super mega Vicino Chi è che ha le armi Chiaroscuro Rimane solamente No C'è pure un anti-kick Non so dove sia Dov'è? Chi è nascosta radar? Non saprei Non saprei Li staranno tutti Mannaggia A te Sui Ma Laser Non credo Che ci siano Sui Che combiniamo Quattro minuti Rimangono Qualcosa ci possiamo inventare Ha preso Oh Non mi ha Trocato Via 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 Seguimi 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 Se mi deve killare Mi deve killare Come si deve Raga Non me ne frega niente No Le hitzer Non ce ne sono Però Non c'è nemmeno Fuori dalla zona Raga Mi sta puntando A me Speriamo che resisto Speriamo Dove si entra? Dove era la torretta Più grande Di GTA Raga Mi sono persa la torretta Impossibile che sia quella Era quella Ma ricordavo più grande io Quista Quista Vieni qua dentro Vieni qua Entra qui Non ci voglio credi Non ci voglio credi Raga Questo non me l'aspettavo E niente Raga Hanno vinto loro Comunque sia Se vi sono piaciuti Questi due LTS BMX Contro Lasciate un bel mi piace Iscrivetevi al canale Noi ci becchiamo Al prossimo video Bello Noi ci becchiamo 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 Grazie a tutti.